Oh, verdetto! Ciao, sono Stefano. Ciao, sono Caspa. E questa è una puntata della Parola Chiave. Iniziamo col motto! E viva gli sposi! Stefano Bettarini, capelli. Questo è facile. Caspa è il barbiere a domicilio che arriva la domenica e lunedì. Grazie a lui ho potuto mantenere un look assai curato. Stefano Bettarini pesca. Devo dire che quest'isola ha visto due ottimi pescatori. Vi vado a tornare a pescare con noi? Volentieri, subito. Perché no? Uno! Sai fare alcuna galanaria? Quattro! Stefano! Cinque! Sette! Sì, ma non c'è quello più grosso, eh? Gira! Gira di... Gira di... Gira di... Stefano Bettarini, Nicoletta. Ero felice di sapere che a casa avevo lei, quindi come fosse finita l'isola si tornava alla normalità la popoletta. Vorremmo farti leggere una notizia che riguarda Nicoletta e fatela commentare. Aveva il telefono di internet fuori uso e una macchina che aveva preso in concessionaria dal nonno senza navigatore. La prossima volta, invece di farsi fare il contratto dal nonno, si fa il suo personale e quindi avrà sempre quel telefono attivo H24. Stefano Bettarini, Simona Ventura. Simona mi ha detto che la cosa più giusta da fare era intervenire in diretta e mai quando accadeva una cosa perché la diretta non ti tradisce mai. Però a me non mi ha detto niente. Stefano Bettarini, Caspar Capparone. Beh, un ottimo compagno di viaggio. Stefano Bettarini, figli. Questo problema si è già verificato e ho avuto una risposta da parte di mio figlio che mi ha veramente inorgogliosito. Io vorrò prenderne parte quando sarò Niccolò Bettarini per quello che ho dimostrato di fare nella vita e non per essere figlio di me. Caspar Capparone, Alda Cusani. Quello che ho detto, ho detto mi sembra strano che una donna di questa età con l'esperienza televisiva che ho letta e quant'altro abbia questa ironia così scialba, così veramente sciocchina, oserei dire. Caspar Capparone, se no. Noi pensiamo di aver fatto l'isola nei migliori modi, di aver dato un contributo all'isola. Dato che siete così amici, vorrei proporvi una prova di forza. Eccola. Eccoci. Dai, vai. C'è. Oh mio, c'è. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Fingi. Oh, verdetto. Sono leader. Caspar Capparone, biondo, tinto. Allora, io voglio sfatare per la signora Alessia Marcuzzi che di tinta ne capisce proprio tanta, che purtroppo io sono naturale a differenza di lei. Caspar Capparone, isola che non c'è. Ma io posso garantire che se degli altri avessero vissuto un terzo di quello che abbiamo vissuto io e questo signore accanto, avrebbero il cuore ancora più ampio. Caspar Capparone e Rex. Non sono un commissario Rex. Io sono il padrone di Rex. Mettiamola così. Puriti. Allora, da parte di padre sono romano dal 1600, da parte di madre sono austro-altotesino. Bene, questa è stata la nostra, diciamo, puntata della parola chiave. Ciao. Ciao. Ciao.